Il pizzo dei commercianti Il blitz anti-racket è scattato a seguito di alcune notizie confidenziali giunti alla polizia su una serie di estorsioni messe in atto da alcuni giovani ai danni dei negozianti di villaggio degli artigiani alla periferia della città, fenomeno in effetti confermato da un esercente del quartiere. Così la zona è stata tenuta d'occhio a lungo dagli uomini della squadra mobile nell'attesa che i due avanzassero le loro richieste a qualche altro commerciante e così è stato. Dall'ultima vittima avevano preteso la somma di 5.000 euro solo che a seguire tutta la scena c'erano degli agenti appostati. Usciti allo scoperto i poliziotti hanno bloccato i due estorsori arrestando l'infragranza. Per loro si sono aperte le porte del carcere.